Benvenuti nel grande mondo Evo. I sistemi self-service Keva consentono di ripensare l'ambiente della filiale e compiere un grande passo verso il futuro. Con il cash recycler Evo all'interno di questa banca, i clienti possono eseguire transazioni di contante come i depositi 24 ore su 24. Grazie a questi dispositivi, gli operatori saranno sgravati da eseguire operazioni standard come i prelievi di contante e avranno più tempo a disposizione. Oggi le filiali bancarie sono progettate intorno al cliente. Alle rigide strutture degli sportelli tradizionali, le banche preferiscono un'atmosfera accogliente e stanno trasformando i loro ambienti. I cash recycler della serie Evo si sposano perfettamente con questa filosofia. La customer experience migliora grazie a una consulenza competente e personalizzata e alla rapidità delle operazioni standard offerta dai bancomat della serie Evo. Il design della serie Evo si integra alla perfezione nelle moderne filiali e nelle nuove architetture. I dispositivi si possono installare in strutture accessibili a sedie a rotelle o deambulatori, inserire in un desk di accoglienza o integrare in pareti in vetro. La serie Evo offre la massima flessibilità in termini di design per le filiali di oggi e di domani. Pronto per le future esigenze. Facile da usare. Flessibile.